Una fede genuina e una gioia contagiosa. Il Messico ha dato il suo benvenuto a Papa Francesco giunto al dodicesimo viaggio apostolico sul tema missionario di misericordia e di pace. All'aeroporto internazionale Benito Juárez, accolto tra gli altri dal Presidente della Repubblica Enrique Peña Nieto e dalla Primera Dama, il Pontefice ha potuto da subito apprezzare le tradizioni, in balli e canti di questo paese che ha precedentemente ricevuto le visite di Giovanni Paolo II, Cinco in Tutto e quella di Benedetto XVI. Nonostante la giornata faticosa, oltre 10.000 chilometri per attraversare l'oceano e la tappa a Cuba per incontrare il patriarca Kirill, Papa Francesco ha abbracciato i bambini, confortato gli ammalati e Benedetto le 5.000 persone presenti prima di percorrere con la Papa Mobile scoperta la strada fino all'Annunziatura. Grazie a tutti! Grazie a tutti!